E' il giorno del vertice dell'Europarlamento a Norcia, nella città di San Benedetto, sono arrivati tutte le autorità, presenti il sottosegretario Gozi a rappresentare il governo, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, il commissario straordinario della ricostruzione Vasco Errani, il prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro, la presidente della regione umbria Catiuscia Marini, tutti accolti dal sindaco Nicola Alemanno, presente anche l'imprenditore Brunello Cucinelli. Dopo l'abbraccio tra Tajani e Alemanno, i parlamentari sono entrati nella tenso struttura per la riunione.